musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudea e ragazzi oggi giornata veramente veramente incredibile per quello che riguarda il nostro fortnite ragazzi oggi è veramente una giornata basugosa perché ci saranno delle novità veramente veramente interessantissime a partire dal downtime dei server ragazzi per l'introduzione della patch 5.10 una delle patch più attese in questo momento su fortnite in quanto porterà delle novità che tutti stiamo aspettando possiamo fare un breve elenco ragazzi innanzitutto se andiamo nella sezione notizie vedremo che c'è disponibile come nuova arma il o la p 90 ragazzi che dovrebbe ovviamente essere introdotta con l'aggiornamento di oggi vi ricordo c'è un video che ho fatto sul p 90 con tanto di sound play una delle mitraglie più veloci mai costruite arriveranno anche ragazzi oggi le due skin gratuite per i possessori del pacchetto fondatore di salva al mondo e ovviamente ragazzi con l'introduzione di questa mega patch sembrerebbe che in cina oggi e per noi domani anche se potrebbe essere oggi ritornerà parco giochi e le modalità 50 versus 50 tra l'altro molti stanno anche azzardando a dire che potrebbe esserci da oggi la funzione regali su fortnite inoltre per chiudere ci sarà anche tutta la nuova serie di mini missioni relative al compleanno di fortnite anche lì abbiamo fatto un video dedicato che ci regaleranno spray esclusivi emote esclusive e un backpack unico ma oggi ragazzi voglio parlarvi di una roba che abbiamo trovato che i miei dataminer hanno trovato e qua ne ringrazio tre ringrazio il fabione ringrazio marco janev e ringrazio michele litto che sono dei criminals che mi hanno preoccupato di portare non so che italiano sia delle robe che vi sto per far vedere ragazzi mi tengo mi tengo perché abbiamo le nuove skin i nuovi picconi e i nuovi backpack per i prossimi giorni 3 2 1 san fatale guardalo qua pronto questo ragazzi è il wreck raider una delle primissime nuovissime skin che vedremo nelle prossime nei prossimi giorni nella prossima manciata di giorni su fortnite come vedete ragazzi è un sub ambigo ovviamente la faccia è sempre quella del nostro amico che conosciamo niente di eccezionale è semplicemente un sub molto tema acquatico in questi giorni su fortnite e io ci aprirai un pochettino l'occhio raga non si sa non si sa ma proseguiamo ragazzi sbrang abbiamo shade un'altra skin femminile come vedete ragazzi un po' diversa dal solito c'ha vediamo se si può allargare shade ecco qua che la vediamo un po meglio ragazzi pelatina sulla parte sinistra con grande riporto di prepotenza color non so melanzana ambigua non sappiamo bene cosa stia a significare non capiamo io non capisco perlomeno quale sia il tema della sua skin mi sembra di scorgere al centro del petto comunque un logo non lo so andremo poi a vedere con calma il signor maverick ragazzi eccolo qua anche lui che penso vada in coordinato con la shade di prima tutta arancione non capisco che tutte siano non sono tutte da lavoro non lo so ragazzi molto pulito anche lui si è rasato per parcondiccio la parte di sinistra c'ha il mini riportino no grande come quello della sua collega nero sguardo fiero probabilmente anche lui saprà il fatto suo e arriva secondo me questa è leggendaria raga secondo me questa è leggendaria abbiamo il sun tan specialist che come vedete è un bell'imbusto ergo surfista ergo ciulone con tanto di cremina sul naso per evitare scotature ed escoriazioni occhiale da sole tattico e ovviamente la favolosa capigliatura da australiano impazzito che non è male corda quindi penso che sia un bagnino in poche parole dovrebbe essere lui invece la controparte maschile del bagnino che sblocchiamo nel pass battaglia reef ranger abbiamo l'altro sub ovviamente in versione femminile come vedete niente da dire per quello che riguarda questa skin un sub normalissimo ci può stare mi auguro credo non siano leggendari dovrebbero essere semplicemente epiche vediamo un pochettino di andare avanti e arriva un'altra una delle skin più particolari di questo gruppo di skin che abbiamo visto è l'archetipo archetype che sape archetipo in italiano una skin veramente particolare che potrebbe nascondere qualcosina per quello che riguarda il futuro della season 5 di fortnite non sappiamo questa delle grosse probabilità per essere leggendaria come skin set qua di bossoli incredibilmente prepotenti maschera stranissima con tanto di tuta verde fluo e grigio abbastanza particolare l'archetipo si dimostra davvero una skin molto misteriosa e arriva il secondo deltaplano leggendario di fortnite un grande omaggio ad austin power chi ha visto gold member sicuramente lo saprà lo squalo con un laser sopra la testa non voglio andare ad addentrarmi nel cult del cinema trash anni 90 però ragazzi questo è veramente cool e il laser chomp va a chiudere la skin del chomp che è lo squalo in poche parole e il biascico come lo chiamiamo noi molto interessante credo che un pensiero ce lo farò servo ragazzi è un deltaplano che va sull'archetipo ovviamente somiglia a un drone gigante ma è un deltaplano niente da dire molto carine le due ali laterali la forma è sempre simile ai deltaplani del massacciano del vento del vento di omen sembra che gli assomigli e non lo so mi piace ma non tantissimo uno dei primi picconi ragazzi nuovi che vedremo questi questo dovrebbe andare su uno dei due tizi lo svuogli o quell'altro come si chiamava ci assomiglia un pochettino al piccone che già conosciamo che gli puoi assegnare al rapace non mi ricordo il nome attualmente comunque in pugnatura gialla piccone che come vediamo molto moderno mini catena sulla parte della vanga per dare un tocco di fashion ecco qua invece ragazzi il piccone dei sub come vedete c'è una lancia una fiocina se volessimo essere più precisi montata come ascia piccone normalissimo doppia bombola del sub attaccata vicino alla base del piccone molto molto interessante anche questo un backpack veramente particolarissimo ragazzi non saprei attribuirlo a nessuno è una sacca trapuntata con potrebbe essere dell'archetipo ma non credo sinceramente doppia cerniera perché mi ricordano i bossoli che ho visto qua quei bossoli là in alto d'oro andremo a vedere anche questo dove arriverà bellissimo backpack per un altro delle nostre skin credo il tipo di colore mazza da baseball fissata dietro con tanto di chiodi sembra quella del falcistrello con piccolo backpack sembra in plastica dietro niente di esagerato ma comunque interessante no eccolo qua ragazzi questo è il backpack dell'archetipo lo riconosciamo dai profili verde fluo con coppia di qualcosa sul fianco mini mantellino che ha messo lì come chiusura che anche quello non è male e tanto di antennone che mi si alza bellissima ragazzi la bombola di ossigeno come backpack del sub a forma di squalo bellissima anche la bombola della tipa color giallo credo ci siano disegnati sopra cose ambigue ma non saprei dirvi che cosa il piccone del sunset quello lì quello con il naso tutto sopra la merdina molto bella ragazzi è un coso di salvagente fissato con la corda del salvagente e chiudiamo ragazzi con il suo backpack che è ovviamente un salvagente beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto che abbiate preso un bel po di leak mi raccomando ragazzi un bel pollicione in su non ve lo toglie nessuno e soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo nella mega live speciale di oggi ciao